Marco Pepe è un gol che è arrivato al momento importantissimo perché forse Coraggio si stava difendendo il primo tempo non è stato eccezionale da parte vostra alla fine poi la partita è scivolata via grazie a quello 1-2 spende nel secondo tempo. Il primo tempo è stato difficile perché loro si chiudevano dietro tutti dietro la linea della palla sapevamo che non è una partita facile perché mercoledì abbiamo un'altra partita diciamo molto importante quindi concentrarsi non era semplice però devo dire che i ragazzi anche oggi tutta la squadra hanno dato il massimo e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era la vittoria anche se nel secondo tempo ma l'importante era vincere. Ecco Marco ti chiedo subito ovviamente di invitare visto che tu sei uno scafatese doc la città di Scafati a questo straordinario appuntamento di mercoledì 4 febbraio ore 15 a Torre Annunziata perché c'è la finale di Coppa Italia tu ci tieni in prima persona ma credo che tutta la città di Scafati voglia partecipare in massa. Ma è una finale importantissima per noi perché siamo partiti dal fondo di nuovo con questa squadra con questa società ritrovarci a giocarci il campionato e la Coppa penso che era un po' impensabile inizio campionato tutti ci davano per una squadra di metà classifica invece abbiamo dimostrato grazie a una società seria un mister preparato di poter di poterci giocare questi due obiettivi ora mercoledì invito ovviamente tutti i nostri tifosi scafatesi curiosi magari anche di altri paesi vicini a sostenerci perché questo sport ha bisogno di queste partite noi giocheremo alla morte fino all'ultimo minuto per questa Coppa che è un trofeo che manca la nostra società. Mister Incitti c'era il rischio di pensare già alla partita di mercoledì oggi per questa sfida contro il Forza e Coraggio primo tempo avete avuto qualche difficoltà perché si sono chiusi molto bene poi il gol di Pepe ha sbloccato la gara e non ci sarà più storia. Sì sapevamo di affrontare una squadra veniva da un pareggio col Gragnano sicuramente una squadra che ha bisogno di qualche punto salvezza non ha più gli obiettivi dell'inizio campionato però è sempre difficile proprio per questo perché quando le squadre hanno bisogno di punti salvezza è sempre un po' più di rischio soprattutto a livello fisico a livello di cattiveria. Loro il primo tempo si sono chiusi abbiamo avuto qualche occasione non siamo riusciti a sfruttarlo però i ragazzi è vero pensare alla partita di mercoledì però loro come dico sempre come diciamo sempre per noi ogni partita una finale oggi era una finale l'abbiamo vinta l'abbiamo portata a casa e poi penseremo alla prossima per ora è andata così e complimenti ai ragazzi. Hai sempre detto di avere una rosa a disposizione che chiunque scende in campo riesce a rispondere alle tue direttive anche oggi con qualche indisponità importante una su tutte quella del capitano comunque la squadra è stata eccellente sul rettangolo di gioco. Sì io su questo sono fortunato perché abbiamo allestito una squadra dove ho sempre detto che per me non esistono riserve perché non credo che un allenatore inizio campionato quando ha la possibilità di di formare un gruppo forma un gruppo con riserve titolare credo che qualsiasi cifra da spendere pure se zero euro cerca di andare a prendere il meglio io nel mio piccolo sono riuscito in questo allora la domenica difficile brutto lasciare qualcuno fuori però ci sono delle occasioni delle volte come oggi che con serenità ho avuto la fortuna di poter lasciare pure qualcuno fuori per qualche problemino e per poi sperare che in seguito può servire stare meglio siamo stati bravi in questo all'inizio e credo che qualche risultato sta arrivando. Se dietro le quinte l'ultima partita mi dicessi guarda che a Gragnano vinciamo la gara di ritorno di Coppa Italia vinciamo 3 a 0 il risultato non l'hai indovinato sei andato vicino adesso ti senti di fare un pronostico anche per questa finale di Coppa Italia magari porta bene? No sono stato di parola in quell'occasione ora so solo dire che da allenatore sono stato fortunato anche avendo delle buone squadre a vincerne quattro e credo che andremo là con la voglia di vincere io come allenatore e loro come giocatori